cioè non avere avere un tramonto e una luce dall'alba al tramonto avere le vigne che sono hanno questa posizione hanno questa luce per tutto il giorno è una roba fortissima fare agricoltura non è troppo difficile non bisogna mettersi troppo di impegno ti devi mettere proprio di impegno a farla male perché viene naturalmente da solo infatti mi piace più che dire che il vino di giovanna e di stefano proprio quando raccontavo prima mi piace dire proprio che il vino di pacina mi piace che sia la terra a parlare perché è così noi siamo un tramite la nostra forza è avere la sensibilità di rispettare il più possibile quello che la natura ci dà e comprendere il più possibile qual è il momento giusto dunque per voi non bastava biolo fare solo biologico ma senti il biolo pagina sempre fatto biologico io non l'ho non ero certificata non l'ho mai scritta nell'etichetta non è questione di biologico non biologico la cosa importante è che il vino è l'ingrediente che te non devi mettere nel vino cioè noi facciamo il vino con le nostre uve a tecnologia zero nella nostra cantina con fermentazioni naturali nessun lievito aggiunto cioè non non c'è niente se non quello che la nostra uva ci dà